Per sistema, gli studiosi della scuola di Palo Alto intendono un insieme di oggetti, di attributi e di relazioni. Gli oggetti rappresentano le parti del sistema, gli attributi, le loro peculiarità e le relazioni e i legami che lo mantengono unito. Negli sistemi sociali gli oggetti sono rappresentati dalle persone, gli attributi sono le loro caratteristiche individuali, le relazioni sono i legami che intercorrono tra loro e che possono fondarsi sullo scambio, sull'affetto, sul rispetto dei ruoli. Esempi di sistemi sociali possono essere la famiglia, la classe scolastica, la squadra di calcio oppure a un livello più ampio la scuola, le associazioni sportive etc. Quali sono le proprietà degli sistemi? Sono appunto in primo luogo la totalità secondo cui una modificazione relativa a un singolo individuo si ripercuote necessariamente sull'intero contesto. Quando ad esempio all'interno della famiglia un membro è colpito da una grave malattia e a subirne le conseguenze l'intera famiglia, l'equifinalità in base alla quale lo stato di equilibrio del sistema è determinato non dalle sue caratteristiche iniziali, ma dalla sua organizzazione. Ogni sistema, essendo composto da determinate persone tra le quali intercorrono particolari relazioni, si organizza in modo che gli è consono attribuendo certi significati agli eventi e elaborando una particolare visione del mondo. Ogni sistema è unico e non esisteranno mai due identici tra loro. Questo ovviamente comporta che una diversazione compiuta all'interno di due sistemi differenti possa produrre effetti simili e che effetti simili possono essere condotti ad azione di simili. In ultimo luogo l'autoregolazione, secondo cui ogni sistema tende all'equilibrio, all'omeostasi per così dire, reagendo ai cambiamenti e trovando inevitabilmente aggiustamenti per ripristinare la stabilità perduta. Ad esempio, quando un padre di famiglia si deve trasferire temporaneamente in un'altra società per motivi di lavoro, ciò determina uno squilibrio all'interno del suo sistema familiare ed adesso dovranno far fronte tutti i membri modificando le loro relazioni, i ruoli per adattarsi alla nuova situazione e al nuovo contesto.